Dopo due anni di inattività a causa della pandemia e del coronavirus, finalmente il Grillo d'Oro scende in campo grazie a un'iniziativa data da Daniele Vimini, il vice sindaco di Pesaro, che mi ha proposto di partecipare a Miral Teatro. Miral Teatro è un contenitore legato a eventi, musica, spettacoli, durante il quale al Parco Miralfiori di Pesaro si svolgono le serate inerenti agli spettacoli. Quest'anno quindi, domenica 25 luglio, al Parco Miralfiori alle ore 21.15, il coro del Grillo d'Oro, diretto da Gabriele Foschi, scende in campo. All'interno del contenitore, quindi dell'evento della serata, avremo un cantautore di fama locale, Davide Pagnini, che si esibirà con il suo nuovo singolo. Inoltre avremo un super ospite di fama nazionale, artista, attore, che ha subito accettato la nostra proposta, senza esitare. Torna il Grillo d'Oro in una versione speciale, un concerto d'estate, in una location anche inedita per il Grillo d'Oro, l'Anfiteatro Fabrizio De Andrè, qui del Parco Miralfiori, che è stata una bella scoperta negli ultimi due anni, dovuta anche alla ricerca di spazi aperti, di spazi più larghi, a causa della pandemia. E proprio la pandemia si vuole lasciare alle spalle questo momento estivo, in cui potremo riasseporare l'atmosfera magica, che è vissuta due anni fa al Teatro Rossini, ma in una nuova veste, in una nuova veste concertistica, sempre ringraziando l'organizzazione di Gontrano, Alessandri, motore di questa manifestazione, la partecipazione di Gabriele Foschi, presente anche nell'edizione del Teatro Rossini. Parte dell'incasso andrà destinato a un progetto sociale rivolto ai bambini, ai bambini della nostra città, bambini che hanno sofferto particolarmente in questo periodo di pandemia, e quindi si sta studiando assieme a Gontrano e Grillo d'Oro una finalità che verrà poi presentata durante la serata, legata appunto all'aspetto sociale e creativo, legato ai più piccoli.